Amici miei, guardate un po' qui! Un'orchestra di rospi! Wow! Non stanno suonando! Che strano! Beh, comunque non possiamo restare per il concerto! Dobbiamo entrare in azione e trovare quel maestro della melodia! Un'altra leccata! Perché questi cani, oltre a rossare, continuano a leccare? Perché non ci lascia passare? Il grillo cigolante! Trovate quelle tre porte e troverete il grillo cigolante!